Viviamo nella paura, non possiamo stare chiusi dentro casa con questo caldo e aspettando che qualcuno possa entrare. Quindi chiediamo alle autorità comunali e alle forze di polizia un maggiore controllo e una maggiore vigilanza sul territorio. Un'altra ondata di furti nelle abitazioni si abbatte nell'alto casertano. I topi di appartamento sono tornati in azione. La paura dei cittadini comincia ad essere tanta. Quelli che vedete nelle immagini sono i luoghi dove i malviventi concentrano oggi ed in passato i loro obiettivi. In piena notte racconta una donna di Liberi. Stavano entrando in casa rompendo la persiana e solo per un attimo, perché ero sveglia, si sono riuscita a metterli in fuga. Pochi minuti dopo infatti hanno rubato un'auto a qualche chilometro nel comune di Ponte Latone. Nemmeno a San Potito Sanitico vanno per il sottile qualche giorno fa. Addirittura hanno sfondato il muro, ma anche qui hanno dovuto scappare per l'arrivo dei proprietari. Vediamo che in questi ultimi giorni purtroppo a Piedimonte e anche comuni limitrofi tipo Alife e San Potito Sanitico si stanno avendo di nuovo furti. Ultimamente si sono avuti circa 10 furti tra tentati e consumati. Purtroppo non vorrei che ci sia di nuovo un'escalation di furti come 5 anni fa, dove questi comuni sono stati presi letteralmente d'assalto da queste bande di latri, sia locali, sia a Roma e sia provenienti dalla Valle Telesina. Personalmente ho chiesto ai sindaci di questi comuni di istituire i volontari della sicurezza, che sono previsti proprio dalla legge 8 agosto 2009, numero 94. A Baiera e Latina è andata diversamente, purtroppo dove i malviventi hanno invece razziato numerosi attrezzi agricoli nelle cascine, passando da una parte all'altra e a pochi metri di distanza l'una dall'altra, c'è timore per un ritorno di un'altra ondata, così come avvenne nel 2018? In qualità di appartenente alle forze dell'ordine voglio consigliare, invitare i cittadini e coloro che purtroppo hanno visite di questi sconosciuti di presentare denunce presso le forze dell'ordine locale e per forze dell'ordine intendo sia i carabinieri, sia la guardia di finanza e sia i vigili urbani. Le forze dell'ordine fanno tutto quello che è possibile perché devono fare purtroppo i conti con un organico sempre più ridotto. Dal nostro viaggio nella notte, nei luoghi dei numerosi furti è tutto. Buonanotte da Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.